Ben ritrovati con l'informazione dal Golfo di Policastro. Con voi Martino Ciano. Emergenza Covid-19 in Calabria. Torna a salire la curva dei contagi. Oggi si registrano 224 casi in più rispetto a ieri. Sul Tirreno-Cosentino, 8 nuovi positivi nel comune di Cetraro e 1 a Scalea. La cronaca con danne dai 6 ai 2 anni di reclusione sono state chieste dal sostituto procuratore della DDA di Salerno, Luca Masini, nei confronti dell'ex giudice della Corte d'Appello di Catanzaro, Marco Petrini, del medico faccendiere e collettore di proposte corruttive Emilio Santoro, detto Mario, e dell'avvocato Francesco Saraco. Tutti accusati di corruzione in atti giudiziari. Rallentamenti negli ITER, spese poco oculate. Per qualcuno tutto questo poteva essere evitato. Peraltro il sistema Italia ha affrontato l'emergenza Covid-19 con la solita faraginosità. Ne abbiamo parlato, dati alla mano, con Saverio di Giorno. C'è una cosa, a discolto della Calabria, è che se vediamo quanto ha speso in proporzione per aumentare ad esempio le terapie intensive di cui spesso si parla e che per causa loro si blocca ogni volta l'intero paese, vediamo come in realtà la Calabria non si è mossa molto diversamente da altre regioni di solito ritenute virtuose come la Toscana, l'Emilia Romagna. Le altre notizie dal Tiveno Cosentino. La cronaca a due persone in manette, una di Belvedere Marittimo, un'altra di Scalea, rispettivamente per resistenza pubblico ufficiale ed evasione dagli avresti domiciliari. Gli avresti sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Scalea nelle notti scorse durante le attività di controllo del territorio. A Tortora l'ente tenta la carta del Fondo Sport e Periferie 2020 per la riqualificazione dell'impianto sportivo Umberto Nappi. Il progetto esecutivo prevede lavori per 700.000 euro ed è stato approvato ieri in giunta. A Diamante il consigliere comunale Antonio Cauteruccio ha ricevuto la delega consigliare alla questione del porto. Recupereremo il tempo perduto, ha scritto Cauteruccio, per portare a termine questa importantissima struttura. A Scalea 59.738 euro per l'erogazione di misure di sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19. Sono stati sbloccati i fondi comunali da utilizzare per misure di solidarietà. L'iter era stato avviato dal commissario prefettizio Francesco Massidda. Ci spostiamo in Basilicata. 106 casi di Covid-19 in più rispetto a ieri. Questi il risponso del bollettino regionale di Ramato nel primo pomeriggio. Un contagio anche a Lago Negro. Intanto la nostra Francesca Magurno ha fatto il punto sulle tendostrutture per i due ospedali da campo. Come era nelle previsioni del Comitato Tecnico Scientifico, siamo alle prese con la seconda ondata della pandemia, ma i numeri in Basilicata sono ancora sotto controllo. A dirlo tramite videomessaggio il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi. A preoccupare Bardi è piuttosto il dover combattere la pandemia economica oltre alla pandemia sanitaria. Per questo ha rivolto un appello ai più giovani per evitare ogni tipo di assembramento e uscire presto dalla situazione emergenziale. Intanto in regione si continua a lavorare per l'adeguamento e il rifornimento delle tendostrutture donate dal Qatar, che non erano adatte alle condizioni climatiche della Basilicata. I due ospedali da campo allestiti presso i nosocomi di Potenza e Matera saranno utilizzati anche per ospitare i cosiddetti paucci sintomatici e come postazioni drive-in per eseguire i tamponi. L'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione Basilicata, Donatella Merra, ha infatti precisato che la protezione civile regionale ha definito e predisposto, di intesa in collaborazione con la stazione unica appaltante, le procedure per l'affidamento delle forniture, per il rafforzamento strutturale e il completamento delle tendostrutture. L'ufficio regionale di protezione civile ha inoltre definito il programma delle forniture con le ditte che consegneranno i moduli bagno prefabbricati al pavimento vinilico il cui acquisto è stato disposto e utilizzato dall'ufficio difesa dello Stato del Qatar, a cui va la gratitudine del popolo lucano, ha commentato l'assessore regionale Merra. Ci spostiamo in Cilento e nel Vallo di Diano. Contagi in aumento anche nei comuni del Cilento. Quattro nuovi casi a Ispani e uno a Torre Orsaia. Si tratta di persone che non hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi nei giorni scorsi. Intanto all'ospedale San Luca di Vallo riapre il reparto Covid-19, visto che le strutture Covid-19 di Agropoli, Salerno e Scafati sono già piene. E con l'informazione è tutto. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.